La storia che vi racconto oggi è di un uomo che ha fatto otto vittime, di un uomo malato, di un uomo le cui perversioni hanno raggiunto i livelli che non pensi che qualcuno possa raggiungere. È una storia che non vi lascerà indifferenti e che non so quando riuscirete a dormire dopo, però l'avete chiesto voi? Il true creme ASMR è forse questo che affascina di più proprio il contrasto fra ASMR e questa storia agghiacciante, quindi buon ascolto. Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in questo nuovo video che non è il solito video ASMR, è un video di true crime, ma non solo. Io quando faccio true crime lo faccio pesante ed è una storia estremamente disturbante, estremamente magabra e io vi sconturo di non guardarla, di non ascoltarla se non siete pronti. Si parla di perversioni molto forti, molto esplicite. Io onestamente non consiglio questa storia a persone sotto i 18 anni. Se le avete già ascoltate, se ci siete già abituati, forse sopra i 16 va bene, ma sotto i 16 vi scongiuro ora, chiedete questo video. Ci vediamo al prossimo. Non vi fate questo, cioè proprio non ve lo fate, non la volete ascoltare, l'ascoltarrete fra quando sarete più grandi. Non c'è fretta, mantenete la vostra in docenza, vi prego, vi scongiuro, ascoltatemi, ok? Questa è una storia di una persona che ce le ha quasi tutte, vi giuro, ha quasi tutte, se pensate alle perversioni che un serial killer può avere, quasi tutte. Manca una, per fortuna, Dio mio, lui ha praticamente tutte le caratteristiche più orribili che si possano trovare in una persona più distorte, che si possono trovare in una persona così malata, si parlerà anche di cannibali, si parlerà di cannibali, insomma, meraviglioso. Questa è la storia appunto di Sean Vincent Gillis, un serial killer che ha acceso otto povere donne innocenti, senza nessuna ragione particolare, non che ci sia giustificazione, ma fa venire una rabbia allucinante. Questa è la storia di una persona che capisce anche lui di essere inutile, capisce anche lui di essere irriparabile, di essere perduto, di essere già andato. Che proprio letteralmente bisogna buttare la chiave della sua cella e lasciarlo lì per sempre. Quindi sì, vi ho avvisato e partiamo con questa storia. Sean Vincent Gillis nasce nel giugno 1962 in Louisiana, che è una regione degli Stati Uniti a sud-est, di fianco al Texas. in una città chiamata Baton Rouge. È una città, per farvi capire, il cui centro più o meno ha circa 260.000 persone e tutta la metropole ha circa 800.000 persone, quindi grande, ma non enorme. Onestamente in quella zona mi verrebbero i prividi a viverci, perché mentre questo serial killer era attivo, in quella zona erano attivi in tutto 5 e 6 killer. Non ci vivrei mai, non ci vivrei mai, non so voi, ma mi verrebbe i prividi solo andare in quella zona. Comunque, rienato qui nel 62, da mamma Yvonne e papà Norman, entrambi molto cattolici. Papà Norman ha dei problemi di alcol e quando è ubriaco diventa anche violento. E ci fu un episodio in particolare quando Sean era molto molto piccolo, in cui lui ha puntato una pistola addosso proprio al bambino e alla madre, minazzandoli. E non è successo niente, ma da lì il padre è stato cacciato via, se n'è andato. E quindi Sean cresce, a parte con un trauma allucinante, non so quanti anni avesse, secondo me va due o tre anni, ma comunque il trauma secondo me c'è, lo senti, lo percepisci. E la madre cerca di farlo comunque crescere in un ambiente amorevole, cerca di fargli avere un'infanzia il più normale possibile con lei, con i nonni. Lei lavora in una tv locale, negli uffici di una tv locale, e fa tantissimi sacrifici per dare a Sean una vita il più bella possibile. Quindi fa tanti sacrifici anche economici, ad esempio per potersi permettere una scuola privata cattolica in cui mandarlo. Da piccolo, onestamente, si potevano notare i primi segni di squilibrio di questo bambino, i primi segni di interessi, diciamo, fuori dal comune, i primi segni di qualcosa che poteva, secondo me, anche essere corretto, e essere capito, e essere ascoltato, e essere indirizzato verso qualcosa di sano. Infatti, sua nonna aveva un'agenzia di pompe funibri, e Sean aveva l'abitudine, era ossessionata, era ossessionata da questa attività, era ossessionata da tutto, era ossessionata dalla morte, e aveva l'abitudine anche di straiarsi nelle pare. Così, proprio come un tipico bambino di 7-8 anni farebbe. A scuola veniva un po' bullizzato, perché non aveva il padre, ma si sa che i bambini possono essere anche cattivi, e crescendo comincia anche a avere dei comportamenti che vengono completamente ignorati dalla madre. La madre l'ha sempre detto una persona, un ragazzo molto intelligente, portatissimo, sempre stata molto fiera, proprio un po' cieca verso il figlio, insomma, alcuni vicini hanno notato dei comportamenti particolari, come il fatto che urlava alla luna, come il fatto che urlava completamente a caso alle macchine, come il fatto che prendeva calci a notte fonda dei bidoni della spazzatura, quando John ha 17 anni comincia anche a commettere i primi crimini, fra cui è stato peccato anche a guardare nella finestra di alcune ragazze, e comincia anche a spacciare a quest'età, rincontra anche il padre, infatti rincontra il padre Norman al funerale del nonno paterno, e diciamo che all'inizio, per un periodo, cominciano a legare, comincia a formarsi un rapporto col padre. Il padre ovviamente era stato in quegli anni fuori e dentro dei centri di riabilitazione, sempre per i problemi di alcolismo, e in quel momento era sobrio, era pulito il padre, mentre era diventato tipo ministro della chiesa, e quella figura, non sono cattolici, non sono protestanti, però siccome è un cattolico diverso, e lì si può diventare tipo ministro della chiesa, tipo pastore, ecco, e era diventato pastore. Infatti nel processo, durante il processo di Sean, si vedrà Norman girare con questa bibbia sotto braccio sempre, e quindi cominciano a, diciamo, avere un minimo di rapporto, cominciano ad avere un rapporto anche buono, quando il padre a un certo punto ricade in questo vizio, quindi viene riricoverato, e Sean quando andrà a curiosare, non so perché, fra le cose del padre scopre della pornografia, e rimane completamente scioccato, e da qui svilupperà anche una fortissima omofobia, rifiuterà completamente il padre, da lì in poi gli chiuderà tutti i rapporti, ha del coraggio, ha veramente del coraggio, perché ragazzi, cioè, lui rimane scandalizzato per questa cosa, ma lui farà della roba allucinante, cioè con chi coraggio dica il padre, veramente, ma, non lo so, guarda, non lo so. Comunque, Sean cresce così, insomma, comunque i traumi non è che mancassero nella sua infanzia, non ha avuto proprio un'infanzia felicissima, e secondo me già qui era un po' stato scritto, si stava già formando la persona che sarebbe diventato, il malato che sarebbe diventato. Ci si chiede sempre anche quando esattamente una vita, un carattere abbia preso quella direzione, e se soprattutto si poteva fare qualcosa, onestamente non ne ho idea, non ne ho idea, però mi terrorizza questa cosa, che una persona si è capace di fare dei gesti simili. Fino ai vent'anni vive in casa con la madre, fa dei lavori saltuari, ma non è costante, non ha voglia di lavorare, a volte non si presenta lavoro, quindi, insomma, perde il lavoro costantemente, trova sempre dei lavoretti, e mentre la madre fondamentalmente vive con la madre, e lei lo mantiene. quando John ha vent'anni, la madre trova un lavoro ad Atlanta, insomma, può fare un salto di carriera, quindi si trasferisce lì, ma decide di comunque lasciare a John la casa, in Louisiana, e di pagarle lei l'affitto, o pagarle lei in realtà il mutuo, quindi non deve pensare neanche a questo, cioè fondamentalmente viene mantenuto dalla madre, nel mentre lei prende un diploma, il computer, non ho capito cosa comunque, qualcosa che il computer, i contatti che siamo, metà degli anni 80 più o meno, comunque, il computer non è ciò che abbiamo presente noi, in ogni caso con il computer scopre internet, e con internet scopre la sua grandissima dipendenza, e secondo me qui proprio, è il momento in cui tutto proprio ha preso il via, cioè da qui è andato solo peggio, 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 perché con internet ha scoperto la pornografia, ha avuto accesso a dei contenuti sempre più macabri, sempre più revoltanti, sempre più specifici, e quindi lui continua così, cioè praticamente sviluppo la dipendenza, per cui tutto il giorno, tutti i giorni, era davanti a quel dannato computer, e guardava questi contenuti, guardava questi video, quindi non si presentava a lavoro, lavorava quando gli pareva, non era costante, e verso quell'età, più o meno 24-25 anni, degli amici, gli presentano Terry, Terry è una donna, di per sé secondo me, che è stata molto verita dalla vita, è una donna che viene da due divorzi, con dei figli alle spalle, di cui ha perso la custodia, quindi sicuramente non uno stingo di santo, però è una donna, che cerca in una relazione, fondamentalmente solo protezione, lei cerca stabilità, lei cerca qualcuno, su cui poter fare affidamento, qualcuno che è lì, e qualcuno che la faccia sentire al sicuro, contate che appena hanno iniziato la loro relazione, più o meno a uno dei primi litigi, Terry ha raccontato che, a posta, e durante il litigio ha tirato uno schiaffo a Sean, per metterlo alla prova, per vedere come reagisse, per vedere se avrebbe reagito in maniera violenta, ma non ha fatto una piega, e quindi da lì, ha capito che lui poteva essere quello giusto, ha capito che di lui si poteva affidare, e da lì è passata sopra tutto, cioè fondamentalmente tutto, lui di buono, aveva solo il fatto che non l'aveva minata, ma la sua casa era tenuta uno schifo, non era costante con i lavori, quindi fondamentalmente lo doveva mantenere lui, anche quando sono andati a convivere un altro dopo, ne era sempre mantenuto, perché non riusciva a mantenere un lavoro, per più di tre, quattro mesi, era davanti al computer tutto il tempo, non avevano intimità, ha raccontato che avranno avuto pochissimi momenti di intimità, in tutti i dieci anni di relazione, e questa cosa ho sentito che, in realtà è abbastanza normale, per quanto riguarda le persone con dipendenza da pornografia, perché penso che la realtà, non possa essere mai come le aspettative, come ciò a cui ci si è abituati, però lei appunto sapeva che era per questo, e fondamentalmente lei non pretendeva nulla, da lui ce l'ha, lei pretendeva solo di avere un bravo uomo di fianco, di avere qualcuno con cui sentirsi, probabilmente al sicuro, protetta, e stabile, con cui condividere la quotidianità, con cui condividere la casa e la vita, e mi fa in parte tenerezza, questa donna, però anche questa donna, diciamo che per il, per il suo bisogno di questa stabilità, veramente ha, si è appiccicata il salame sugli occhi, e si è rifiutata di vedere qualunque segnale, mentre appunto, Sean non riusciva a mantenere un lavoro, e intanto era arrivato, non solo a contenuti pornografici, ma a immagini di donne nude, e quindi appunto, fondamentalmente ne ero piglia, e, Terry sapeva, Sean gli aveva fatto vedere queste immagini, Terry sapeva che le guardava, ma, non le hanno fatto nessun effetto, probabilmente, si è rifiutata di, reagire, ha detto ok, ignoriamo bellamente questa cosa, io vivo bene lo stesso, sì, non mi interessa, tra l'altro, Sean l'aveva fatto anche un pochino, riavvicinare i suoi figli, quindi aveva questa cosa, che non riusciva a rinunciarci, e con lui alla fine, ci stava bene, quindi come se chiudesse un occhio, su tutti i sospetti, o gli allarmi, che potesse avere, lei si era fatta quell'idea di Sean, e così andava, non voleva sapere altro, sapete quanto, non lo voglio sapere, non voglio approfondire, io sto bene così, ecco, secondo me è la stessa cosa, e Terry lavorava, in un supermercato, e faceva i tuoni di notte, le racconta che le piaceva molto, i tuoni di notte, quindi lei lavorava tutte le notti, e Terry soffreva anche di epilessia, quindi a un certo punto, non riusciva più a guidare, e quindi praticamente, Sean e Terry avevano questa abitudine, che lui l'accompagnasse a lavoro, la sera tardi, e la venisse a prendere a lavoro, la mattina presto, e anche Sean, diciamo, è una persona notturna, ora, secondo me, nelle interviste, quando intervistano Sean, lui paragona, le sue necessità, e ciò che andrà a fare, a questo, lui dice, il mio bisogno, c'è il mio bisogno di avere quella cosa, era tipo quando da bambino, ti mettono il parattolo con dei biscotti lì, tu hai sempre il desiderio di prendere il biscotto, di mettere la mano e prendere il biscotto, puoi resistere per tempo e tempo e tempo, ma avrei sempre quel desiderio di prendere il biscotto, e a un certo punto, semplicemente, cedi e prendi il biscotto, lui dice, io avevo lo stesso bisogno, solo che il biscotto, era la sua perversione, per la, e quindi sì, è un caso molto strano, perché appunto, secondo me, lui non aveva, l'esigenza di uccidere, in sé, ma aveva l'esigenza di stare, con il corpo morto, che probabilmente è ancora peggio, il 21 marzo 1994, l'ottantone N.N. Brian, viene trovata, da, muta, in camera sua, in un centro di riposo, in cui era ospite, e lei aveva lasciato la porta aperta la notte, perché le infermiere potessero entrare la mattina presto, e in quel luogo c'era sempre stato un, un bel ambiente, un luogo di fiducia, in cui tutti si fidavano degli altri, e in cui quasi tutti tenevano le porte aperte, di notte, N.N. viene descritta come una dolce signora, una dolce vecchietta, che amava giocare a carte, che amava giocare a scarabeo, che amava l'arte, ed era un'artista, è stata la prima vittima di Sean, e si è trovata la mattina dopo, con 47 coltellette, che è overkilling, era proprio qualcosa di estremo, il corpo di N.N. viene trovato, non solo mutilato, ma in condizioni veramente, è talmente violento, ha subito 47 coltellate, ed è talmente violenta, l'aggressione che trova nel corpo, quasi decapitato, quasi totalmente, e con i genitali in pista, anche se non è stata trovata, non è stato trovato nessun segno, di aggressione, ma Sean dirà che in realtà, è perché, non ha avuto tempo, perché la donna ha iniziato a gridare, quindi l'ha presa alla sprovvista, e non l'ha fatto, ma in realtà la sua intenzione, era proprio quello di, giacere con lei, una volta, uccisa, quindi questo è l'obiettivo fondamentalmente suo, sulla scena del crimine, sono stati trovati solo il segno di un coltello, e l'impronta di una scarpa insanguinata, nessuno ha sentito niente, nessuno ha visto niente, il caso si raffredda, e non verrà trovato il colpevole, per tantissimi anni, passano, dal cinque anni, dal 1994, al 1999, ora, queste sono, queste sono le vittime, che sono state attribuite a lui, e che lui ha confessato, onestamente, molto strano, secondo me, che abbia fatto, dopo che effettivamente, ha ceduto, queste sue pulsioni, è stranissimo, che lui abbia fatto, una pausa di cinque anni, probabilmente, probabilmente l'unica cosa, che l'ha fermato, è l'amore per Terry, veramente, non saprei, in ogni caso, nel 1999, riprende, e riprende, in modo, feroce, il 4 gennaio 1999, che è 3N, Hall, 29 anni, viene aggredita, mentre lavorava, Catherine, lavorava, sulla strada, e, tante sue vittime, in realtà, saranno, donne, costrette, dalla vita, da varie situazioni, a lavorare, in strada, sulla strada, per mantenersi, e, molto spesso, queste donne, sono, le vittime predilette, dei serial killer, perché, purtroppo, molto spesso, vengono dimenticate, molto spesso, non hanno nessuno, che le cerca, e, è veramente, una parentesi, tristissima, che non voglio aprire, ma, lui appunto, le chiede, di entrare, nella macchina, e, poi, la porta, in un luogo, isolato, a questo punto, lei si impanica, erano vicine, a un campo, di, canne da zucchero, lei ha cominciato, ovviamente, ad agitarsi, e lui ha preso, il suo, quello che, userà, quasi sempre, come, attrezzo, che, praticamente, è una facetta, dell'elettricista, avete presente, quelle facette, che, non so come dire, è difficile da spiegare, una facetta, dell'elettricista, comunque, chi è presente, è un pezzo, di, plastica, che, poi, si, chiude, fondamentalmente, e, una volta che lo chiudi, non si riapre più, rimane fisso, e, comincia, a strancolarla, lei, riesce a scappare, riesce a scappare, per i campi, ma lui, purtroppo, la prende, e, la prende, e, il suo corpo, verrà, mutilato, smembrato, e, lui, poi, la prenderà il corpo, lo metterà in macchina, andrà in un, autolavaggio, a pulire la macchina, e appoggerà, il corpo di lei, per strada, così, con dati che stiamo parlando, di ore notturne, quindi, probabilmente, non c'era nessuno, però, proprio con, zero rispetto, no, è ovvio, che non avesse rispetto, di questi corpi, però, così, in mezzo alla strada, e, lava la macchina, e, la va a lasciare, in una zona molto particolare, praticamente, il giorno dopo, il corpo viene trovato, sotto, il segnale, un segnale, americano, che è il segnale americano, per indicare, una strada chiusa, che si chiama, in inglese, dead end, quindi, ci sono questi segnali, gialli, che ho scritto, proprio, dead end, ed è stata, proprio, trovata, sotto, questo, segnale stradale, quindi, proprio, simpaticissimo, è stato trovato, nel corpo, nella bocca, di Catherine, un, pello pubblico, l'alte, andiamo oltre, e, quindi, fondamentalmente, non, non c'erano altri, il DNA edition, non era della polizia, quindi, non era noto, la polizia, e, non c'erano, altre indizie, e quindi, anche questo, dopo fare indagini, è diventato un caso, chiuso, non, non si è saputo più nulla, sempre, nel, 1999, il 30 maggio, viene aggredita, una donna, di 52 anni, chiamata, Hardy Smith, lei, era, una, casalinga, madre di, tre figli, moglie di, un avvocato, e, quindi, sicuramente, si faceva il mazzo, insomma, a casa, perché, fondamentalmente, il marito, non c'era mai, e, lei, come, molte mattine, è uscita, per fare, jogging, alle, 5 di mattina, quindi, voi immaginate, quanto tempo, avesse per lei, se doveva svegliarsi, alle, 5 di mattina, per andare a correre, e, lei, era, molto appassionata, di corsa, molto brava, infatti, aveva anche partecipato, alla maratona, di Boston, solo che, quando è uscita, quella mattina, non si è resa conto, che già, tre settimane, c'era qualcuno, che la stava, seguendo, la stava spiando, la stava controllando, e stava, e, cercando, il momento, l'atto, per aggredirla, lui sapeva, che lei aveva dei figli, sapeva che una madre, moglie, lui vedeva, penso, vedeva un corpo, e, e basta, lui vedeva il tubo, non gli interessava, della vita, della persona viva, non gli ne fregava niente, e, l'ha, investita, con la macchina, l'ha presa in macchina, e l'ha, stranata, con la faccetta, dell'elettricista, e ancora, nessuno ha visto, o sentito nulla, dato che erano le 5 di mattina, dato che era così tardi, non ha avuto, questa volta, il tempo, di, spimpararla, quindi diciamo che, si è accontentato, del corpo così, intero, e l'ha messa, nel bagagliaio, e ce l'ha tenuta, per un giorno, intero, e, dopodiché, il giorno dopo, l'ha sembrata, in un parco, Terry, gli chiederà, noterà, che c'è, molto odore, nell'auto, di Sean, e lui dirà, che ha investito, uno scogliatto, che, avrebbe, insomma, lavato la macchina, presto, però l'odore, era, era quello, il suo corpo, e il colpo di Harry, è stato trovato, in una discarica, e il primo spettato, è anche stato il marito, che nonostante, avesse denunciato, la scomparsa, è comunque, stato sospettato, quindi immaginatevi, anche, l'incubo, di queste persone, che hanno perso, la madre, la moglie, e vengono pure accusati, di averlo ucciso, sempre, il 1999, siamo a novembre, Joyce Williams, 36 anni, anche lei, lavora, sulla strada, in realtà, lei, stava studiando, anche all'università, ma, ha avuto dei problemi, ed è entrata, nel giro della droga, è entrata nel giro dell'alcol, e, da lì, semplicemente, la sua vita, ha, preso una direzione, sbagliata, e si ritrova, a lavorare, sulla strada, quando viene apportata, la Sean, in realtà, la porta, a fumare, a bere, a cantare, canzoni, anni 60, proprio, si divertono, finché, non la riporta in macchina, e la porta, vicina, dei campi isolati, e lì, lei, inizia, a impanicarsi, inizia, a, scostarsi, lui, prende fuori, la sua facetta, da elettricista, e, praticamente, in col, non so perché, non si era chiusa bene, quindi, lei riesce, a scappare, ma, purtroppo, anche lei, verrà, ripresa, questa volta, lui, porterà, il corpo, della donna, a casa sua, la casa che condivide, con Terry, e, potrà fare, ciò che vuole, la smembra, la mutila, e, starà, con questo corpo, per, diverse ore, finché, non sarà ora di, ripulire il tutto, sprazzarsi il corpo, e andare a prendere terra, al lavoro, comunque, non contento, anche, mangiato, dei pezzi, della sua carne, quindi, proprio, tutto, ha avuto il tempo, di fare, tutto, ciò che voleva provare, dopodiché, quando era tardi, e quando ero a ripulire il tutto, ha tagliato il corpo in pezzi, l'ha messo, in delle buste di plastica, l'ha messo in macchina, è andata a prendere terra, al lavoro, l'ha riportata a casa, e poi se n'è andato via, la cosa che fa rabbia, di questa mitima di Joyce, è che, la ricorderà, perché, aveva un bel paio di gambe, dice proprio, she got a nice, a nice set of legs, e sai, lui le voleva tenere, voleva, tenere, con sé, le gambe, le gambe, no, no, e, sì, proprio lui, si vedono, ci sono i video, dei, di lui, che parla di queste cose, delle confessioni, e, vi giuro, è come se io facessi un complimento, boh, a qualcuno che conosco, ah, che degli occhi che hai, no, aveva proprio dei begli occhi, uguale, cioè, con questa tranquillità, ah, sì, sì, aveva le bellissime gambe, le avrei volute tagliare, e tenerle con me, non saprei, non saprei, comunque, anche questo, anche questa volta, viene ritrovato il corpo, in un campo, a 40 minuti di macchina, da casa di Sean, e, non ci sono fondamentalmente indizi, fondamentalmente indizi, e, mi sembra, però, che venga trovato, anche qui, un tipo, capello, fra le membra, appunto, la polizia, non avendo il DNA, non possedendo già il DNA, della persona, non ci può far nulla, gennaio del 2000, Lilian Robinson, 52 anni, lei, viene da una famiglia amorevole, aveva tre nipoti, di cui amava, prendersi cura, ma, anche lei, a un certo punto, nella sua vita, si è ritrovata, nella spirale di alcol, e troche, ed è finita, anche lei, a lavorare sulla strada, io vi giuro, non, non so se ignoro io, queste realtà, nel nostro paese, ma, com'è possibile, che sia una realtà così comune, negli Stati Uniti, è, allucinante, secondo me, la facilità, con cui le persone, si abbandonano, a questi vizi, non lo so, per me, è veramente inconcepibile, ma, non sto dando la colpa a loro, ma, alla società, in generale, che, che tipo di società è? Comunque, anche lei, è stata, coagolata, con la fascia, e questa volta, non ha, lui non ha avuto tanto tempo, per giocare con il corpo, quindi, semplicemente, si è sfogato, esternamente, e poi ha gettato, il corpo, da un putt, nel fiume, e, è stata trovata, un mese dopo, la sera, di Halloween, e, la cosa, anche un po' triste, è che, ovviamente, le sorelle, la stavano cercando, e, non hanno saputo, hanno saputo, dopo un anno, che ne avevano ritrovata, perché l'hanno ritrovata, ovviamente, in là, nel fiume, e, i poliziotti, erano sotto, un'altra giurisdizione, quindi, non avevano ricevuto, appunto, la scomparsa, la denuncia di scomparsa, sì, è veramente, sono storie, tutte molto, storie, tristi, proprio anche, e tristi, già in partenza, persone che fanno una vita normale, che pian piano, invece, si ritrovano, a dover fare questa scelta, dover lavorare sulla strada, a dover vendersi, è allucinante, veramente, una tristezza allucinante, 23 ottobre, del 2000, Marilyn Nevils, 38 anni, quel giorno, in realtà, Sean, era in macchina, per andare a trovare, la sua figlioccia, ma, purtroppo, questa donna, si è semplicemente trovata, sulla sua strada, anche lei, era una donna, che lavorava, sulla strada, e, è andata, fondamentalmente, come tutte le altre, quindi, l'ha caricata in macchina, l'ha portata, in un posto sperduto, l'ha stancolata, e, poi, l'ha portata, a casa sua, e la cosa, una cosa, stra inquietante, che mi ha proprio fatto effetto, è che lui, trasportava, questi corpi, nel sedile, del passeggero, tipo, come se fossero, una persona, viva, mi ha fatto troppo, impressione, questa cosa, che lui, trasportava, questi corpi, nel sedile, del passeggero, cioè, quanto cavolo, sei malato, quanto cavolo, sei deviato, da fare una cosa, del genere, è proprio, oltre, ciò che riesco, a concepire, non lo so, ha fatto, come la prima volta, mi sembra, la, quindi poi, l'ha, messa in macchina, è andata, nell'autolavaggio, ha lavato la macchina, tutto, e poi, l'ha portata a casa, e ci ha fatto, la doccia, insieme, e quando, il detective, l'ha chiesto, in che senso, avete fatto, la doccia, insieme, di coppia, no, in che senso, avete fatto, la doccia insieme, tipo, le hai, non so, le hai messo, il sapone, le fa, certo, stavamo facendo, la doccia insieme, cos'altro, dovrei fare, no, no, raga, no, questa cosa, è troppo, disturbante, è troppo, 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 disturbante, dopo la doccia, si vede che, ha perso, fin troppo tempo, non aveva più tempo, quindi, l'ha semplicemente, smembrata, messa in sacchetti, ripulito tutto, e ha portato, il corpo via, è stata trovata, dieci giorni dopo, non c'erano indizi, e soprattutto, un'altra cosa, che resta, è che, la sua scomparsa, non era stata, denunciata, da nessuno, come in tantissimi, di questi casi, di questi casi, capita, quando si tratta, di donne, che lavorano, sulla strada, di donne, che, hanno perso, proprio, completamente, la via, completamente, il contatto, con le persone care, vi avviso, ci siamo quasi, a un minimissimo, di giustizia, dovete, pazientare, ancora un attimo, e dovete, soffrire, ancora un attimo, e sentire, purtroppo, altre cose, ha fatto, una pausa, di tre anni, e, non si sa bene, perché abbia fatto, questa pausa, ma, fondamentalmente, si era reso conto, che, alcune, persone, alcuni corpi, che venivano ritrovati, non li aveva uccisi lui, e quindi, si è reso conto, che nella zona, in quell'esatto periodo, c'era un altro, per questo, che vi ho detto, che lì, non ci andrei, mai, che ansia, e, che è stato preso, finalmente, nel 2003, e, nel 2003, secondo me, è ripreso, perché, essendo stato preso, quest'altro uomo, che lui, tra l'altro, era super affascinato, aveva una cartella, sul suo computer, dedicata a lui, con tutti, gli articoli, di giornale, con tutti gli approfondimenti, era proprio ossessorato, e ammirava, quest'uomo, e, come se, nel 2003, avesse voluto, non so, di nuovo, mettere in panico, non lo so, avevano preso lui, avevano preso, quest'altro uomo, e quindi, la gente, non so, aveva tirato, un sospiro di sollievo, e, poi, dopo, gli sono resi conto, che avevano a che fare, con, un altro, tecnico, questa cosa è allucinante, due, due insieme, è allucinante, per me, John, questa volta, fa una cosa, che di solito, le persone, le persone, non fanno, cioè, sceglie come vittima, una sua conoscente, ma non solo, una sua amica, se, 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 si può dire, se, una persona, del genere, riesca ad avere amici, insomma, nel, nel limite, del possibile, il 9 ottobre, 2023, Johnny May Williams, di 45 anni, lei, l'ha conosciuta, perché, lo aiutava a fare pulizia, in casa, e, poi, erano andate, anche, delle feste, insieme, lei, l'aveva invitato, persino, erano amici, da 10 anni, lei l'aveva invitato, persino, un anno, a ringraziamento, a casa sua, quindi, insomma, si conoscevano bene, lei aveva fiducia, in lui, e, anche, lei, nel corso degli anni, aveva avuto problemi, di ancora, di droga, e, diciamo, che aveva avuto, anche, una ricaduta, e lui, semplicemente, l'ha trovata, lui, vagava, di notte, no, tutta la notte, e l'ha trovata, palesemente, drogata, per strada, e lui, ha dichiarato, che, lei sembrava, fondamentalmente, già morta, quindi, stessa cosa, ragazzi, stessa cosa, stessa cosa, di tutte, e, come, tropei, le ha, tagliato, le mani, ha messo il corpo, sul sedere, passeggero, di nuovo, e poi, ha appoggiato il corpo, dove poi, sarà ritrovato, in una posizione particolare, e da lì, si è messo a fare foto, si vede che era particolarmente, fiero, si voleva ricordare, particolarmente, questo momento, e quindi, appunto, si è messo a fare foto, a questo corpo, in una determinata posizione, un corpo, di una persona, che conosceva, come, cavolo, non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so, anche qui, non c'è stato, nessun indizio, e il caso, si è, è stato, lasciato lì, fondamentalmente, perché non si riusciva, a capire, non c'era indizio, non si riusciva, ad andare avanti, l'ultima, finalmente, vittima, è stata, Donna, siamo nel 26 febbraio, 2024, Donna, Bennett Johnson, viene, anche lei, invitata, a entrare, nella macchina di Sean, dalla strada, Donna, in realtà, ha avuto una vita, felice, ha avuto un'infanzia felice, però, è rimasta incinta, 15 anni, molto giovane, ha avuto, due matrimoni, che non sono andati, come dovevano andare, ha avuto, altri figli, dentro e al di fuori, dal matrimonio, e ha avuto una, che è stata molto forte, quando ha scoperto, che il marito, la tradiva, e anche lei, alla fine, per un motivo, per l'altro, è entrata, in questa spirale, di droghe, ecco, lui, ha sembracito, come al solito, fa scelta, elettricista, moderata, e, probabilmente, anche, mangiato, la sua carne, ve l'ho, ve l'ho detto, che le faceva, le fa tutte, veramente, tutte, altra cosa disturbante, che ha fatto, in questo caso, ha tagliato un braccio, e se l'è tenuto, con sé, per un po', per, usarlo, ve la dico così, e, poi ha, anche qui, messo il corpo in posa, e ha fatto, ben 45 foto, a questo corpo, sulla scena del crimine, verrà trovata, verrà trovata, del DNA sotto, le unghie di donna, e, e, verrà trovata, l'impronta, di una scarpa, insanguinata, e, finalmente, dell'impronta, di pneumatici, la fortuna, qui è stata, che, ehm, praticamente, le, le gomme, i questi, l'impronta, di queste gomme, di questi pneumatici, era molto particolare, e molto rara, perché si riferiva, a una macchina particolare, a una Chevrolet, e queste gomme, erano state, vendute solo per tre anni, e acquistate, in quella città, da solo 90 persone, quindi, fondamentalmente, il colpevole, doveva essere, tra queste 90 persone, quindi, cominciano le ricerche, comincia, la polizia, a chiamarne, uno a uno, a uno, e Sean, è il, il 26esimo, e, quando lo chiamano, l'ispettore ha, quasi subito, no, capisce, che c'è qualcosa, che non va, lui comincia, è tutto tranquillo, comincia a scherzare, no, quando, chiamava, per una cosa del genere, certo, non ti viene, non ti viene da scherzare, cioè, anche solo a pensare, come se trovare il corpo, non ti viene da scherzare, no, quindi, inizio, lui, non confessa, ma, loro, ovviamente, ordinano, esami, del DNA, ottengono, anche, un mandato, per, 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 la casa, e la macchina, e, quando, gli chiedono, anche, dopo che avranno controllato, il DNA, ma, noi, troveremmo, del sangue, di Joyce, nella tua macchina, nella sua amica, lui dirà, sì, ma, perché, praticamente, quando lei è salita in macchina, le è venuto, improvvisamente, il ciclo, ed è, praticamente, scoppiata, tipo, esploso, il sangue, esploso, no, il famoso ciclo, in cui il sangue, esplode, fungono, infine, il ciclo, è in macchina, voi, imbrattate tutta la macchina, e, per spiegare, perché, c'erano degli schizzi, anche, dietro, nei selli di rietà, detto, che era il vento, perché, il sangue, è tormentato, schizzato, che, è uscito da, un finestrino, e il vento, l'ha fatto rientrare, dal finestrino, dietro, non lo so, ragazzi, non lo so, è allucinante, cosa si è inventato, e poi, quando l'hanno beccato, insomma, ha confessato, ha confessato tutto, vi giuro, sono agghiaccianti, le conversazioni, le trovate, tranquillamente, su youtube, ma, vi ho visto che sono agghiaccianti, perché lui è, lui ha una tranquillità, allucinante, lui è tranquillissimo, dice, io so di essere malato, io so di essere, io so quello che ho fatto, so benissimo, qual è il, 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 il confine, fra male e bene, fra giusto e sbagliato, io semplicemente, non mi riuscivo, a controllare, cioè, io lo so che è sbagliato, non ha senso di colpo, dice, io lo so che è sbagliato, ma io non mi riuscivo a controllare, e, quindi è successo quello che è successo, no? E, quindi, le mie esigenze erano queste, e poi dice anche, tipo, descrivendo come ha strangolato, una donna, tipo, e la dama, e, si, si affondava, come se fosse proprio un coltello nel burro, morbidissimo, serio, ok, va bene, e poi immaginate, appunto, tutte le domande, che gli hanno dovuto fare, anche sui rapporti, con le vittime, e tutto quanto, voi immaginate, l'investigatore così, casualmente, chiede, tipo, ah, ma quindi, in che senso, hai fatto la doccia con lei, in che senso, cosa c'hai fatto con quel braccio, così, non lo so, io non avrei dormito, tipo, per, anni, credo, comunque, per fortuna, è stato condannato, è stato condannato, all'arcastolo, senza possibilità, di uscire, mai più, è in isolamento, ora, circa, 60 anni, 62, è in isolamento, sia per la sua, sia per il suo bene, sia per il bene degli altri, onestamente, io l'avrei messo in mezzo alla boccia, tranquillamente, però, vabbè, e, è stato scoperto, poi, allora, adesso, arrivano le cose inquietanti, perché il caso, è chiuso, ma arrivano le cose inquietante, intanto, Terry, la sua compagna, a parte che, quando le hanno detto, appunto, lei ha chiesto, ma perché, lo state arrestando, e loro hanno detto, guardi, che lei ha vissuto 10 anni, con un serial killer, dice, ma no, è impossibile, vi state sbagliando, e quando le spiegano, cosa ha fatto, dice, ma lui non è così, anche se, nel senso, secondo me, tutti i segnali, tu, ce li avevi avuti, che cavolo faceva quello, tutta la notte, cavolo faceva, perché, macinava così tanti chilometri, della macchina, vabbè, lei, Terry, tuttora, vive in quella casa, dove lui ha fatto quelle cose, o, o scene, orrende, tremende, e vive ancora lì, perché dice, che la casa è una casa, cioè, cattive, energie, cose varie, eccetera, quindi, vivreste mai, in quella casa, e ha ancora la macchina, dove lui ha fatto quelle cose, dove ha trasportato le persone, nel settore del passeggero, ha ancora quella macchina lì, in giardino, semplicemente lì, ferma, ok, Terry, d'accordo, si è scoperto poi, che Sean, aveva provato, già a 12 anni, a uccidere, la cucinetta, a sassate, proprio con una pietra, perché, voleva vedere le sue parti, di me, molto bene, ha confessato, anche una giornalista, di avere, attrazione, verso sua madre, e che, se lei, fosse morta, probabilmente, la troverebbero, nel letto, con il suo corpo, non lo so, ragazzi, stiamo raggiungendo, livelli proprio di, tipo, non è possibile, che stia raggiungendo, ancora, questi livelli, ancora oltre, e stia andando, ancora oltre, ok, quindi, lezione, se siete genitori, lezione da imparare, non date la vita, ai vostri figli, siate oggettivi, sui vostri figli, e soprattutto, non li mantenete, così a caso, lasciate che, lavorino un pochino, e che, abbiano le conseguenze, delle proprie azioni, e non, manteneteli, così a caso, perché, poverini, li manteniamo, vabbè, concludiamo, questa agghiacciante storia, io, voglio, sapere nei commenti, cosa ne pensate, se avete mai sentito, parlare di questa storia, se, siete disgustati, come me, io adesso, ho qui, prontissima, la salvia bianca, probabilmente, la brucerò tutta, forza di, pulire l'energia, di questa, di questa stanza, proprio, te prego, ho parlato di un'ora, di questo tizio, quindi, devo pulire tutto, e, quattro giorni, che leggo di questo tizio, ascolto di questo tizio, e ce lo devo pulire, tutta la mia energia, proprio perché, non ce la faccio più, ho anche deciso, di, filmare questo video, quando sono da sola, in casa, la sera, sono un genio, quindi, concludiamo, questo video, con una frase di Sean, che ci ha, gentilmente informati, che se, lo rilasciassero ora, lui troverebbe benissimo, qualcuno, entro il tramonto, e con questo, buonanotte,